Quindi vedi i tuoi bambini litigare con i compagni, discutere in modo che non ti piace oppure in dinamiche con i loro amichetti che ti lasciano un po' perplesso. Sennò può essere quando sono piccolini, perché si contendono i giochi, si spingono, sono immorsi, sono proprio piccolini, oppure quando sono più grandi, sono già a scuola o alle medie e iniziano a riportare, magari assisti tu in diretta, quelle dinamiche di gruppo, le gelosie, le piccole invidie. Come fare a accompagnare efficacemente i nostri bambini e i nostri ragazzi in queste situazioni? Hmm, lo vediamo nell'episodio di oggi. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista quanto coinvolgerci nelle amicizie dei nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ok, ben ritrovata questa settimana, ben ritrovata, è un piacere avverti qui. Oggi ci tenevo a approfondire un po' questo aspetto. Abbiamo iniziato qualche settimana a parlare di fiducia, di leadership genitoriale, come applicarla nelle varie situazioni, attraverso le diverse fasce d'età. E quindi mi sembrava importante affrontare anche, all'interno di questo grande macro tema, l'aspetto delle relazioni, delle amicizie dei nostri figli e di come fare nel momento in cui noi li vediamo navigare con più o meno difficoltà, a certe situazioni magari difficili, magari scomode, magari spiacevoli nella loro crescita con gli altri bambini. Quindi, per fare qualche esempio, quando sono piccolini magari è perché appunto li vediamo litigare con gli amichetti al parco giochi, non condividere quello che a noi sembra moralmente più giusto e accettabile, cioè la condivisione dei giochi con gli altri, che siano i nostri bambini a non condividere o che siano i nostri bambini a richiedere dei giochi o il proprio turno e a non riceverlo in cambio dagli altri bambini, naturalmente questo vale un po' nei due sensi perché con entrambe le situazioni possiamo vivere e sperimentare noi una difficoltà, una fatica. In che senso? Se vediamo i nostri bambini ai nostri occhi trattati male, chiaramente ci mostreremo empatici nei loro confronti, e ci dispiacerà di vederli in difficoltà, vorremmo magari offrire il nostro supporto perché imparino a imporsi in qualche modo, a farsi rispettare, viceversa se ci sembra che siano i nostri figli magari a prevaricare in qualche modo sugli altri, ci può mettere in difficoltà allo stesso modo perché vorremmo invece che i nostri bambini imparassero subito a comportarsi in modo giusto e rispettoso nei confronti degli altri. Quindi qualunque sia la situazione che viviamo porta con sé una fatica, porta con sé una difficoltà per noi genitori. Poi naturalmente queste difficoltà si declinano in situazioni diverse man mano che i nostri figli crescono, quindi può essere quando la scuola primaria e oltre alle medie le amicizie naturalmente prendono sempre più spazio e magari osserviamo le chiacchierate dei nostri bambini con i loro amici oppure sono i nostri figli stessi a raccontarci di quello che succede, dei loro litigi, delle loro difficoltà o anche delle cose che loro vivono magari come normali e noi invece le interpretiamo come delle dinamiche che non ci piacciono. Quindi magari osserviamo, sentiamo i nostri figli essere parte del punto di dinamiche in cui possono essere presi in giro o messi da parte, non sono magari i preferiti del gruppo oppure il migliore amico o la migliore amica preferisce stare con altri o viceversa possono essere appunto i nostri figli a trattare in questo modo i loro amici e le loro amiche e noi ci stiamo male, abbiamo voglia di, non so se ti capita no, di starci male e di aver voglia di intervenire. Come si fa? Perché ti viene voglia di intervenire? E qual è il modo diciamo più efficace di farlo? È tanto interessante osservare come dietro questo desiderio, spinta un po' istinto di intervento c'è magari la convinzione anche molto nascosta che i figli, i tuoi figli e i tuoi bambini stiano sbagliando e che quindi sbagliando vadano incontro a delusioni, a sofferenze oppure che rischino di rovinare le loro amicizie oppure ancora c'è il timore che se non intervieni questo comportamento da parte di tuo figlio o tua figlia poi possa continuare e peggiorare se ti sembra di aver osservato qualcosa che non ti piace e che quindi viene sotto sotto anche la paura e il timore di non essere un genitore sufficientemente bravo non lo uso con le virgolette per offrire ai tuoi bambini la giusta guida, il giusto supporto in questo quindi tante volte dietro questa fatica e dietro questa spinta a intervenire è importante imparare a riconoscere la vera motivazione e quindi magari appunto un timore che non è che magari razionalmente ci diciamo essere per il bene dei bambini, quindi un timore volto a proteggere i nostri bambini da qualcosa e poi magari invece potrebbe rivelarsi essere piuttosto un timore o una paura per qualcosa che può succedere a te quindi di sentirti messo in cattiva luce, di sentirti tu stesso inadeguato di fronte ai comportamenti dei tuoi bambini quindi intanto è interessante vedere come dietro questa spinta si nasconda tanto altro e quanto è importante prendere lo spazio per approfondire tutto questo e capire davvero cosa ti sta dicendo, cosa ti vuol dire perché questo ti aiuta a orientare meglio le tue scelte e raggiungere più facilmente poi quello che è l'obiettivo che vuoi raggiungere che è quello del benessere della tua famiglia, il benessere tuo, il benessere dei tuoi bambini qual è il problema dell'intervento? rischi di mandare ai tuoi figli un messaggio di sfiducia nei loro confronti nel fatto che hanno bisogno di te, hanno bisogno di noi genitori per fare la cosa giusta anche senza volere non è che realmente vogliamo mandare questo messaggio ed è per questo che è davvero interessante prendere il tempo e lo spazio per essere onesti con noi stessi e imparare ad accettare anche queste le nostre zone d'ombra senza giudizio ma solo con piena osservazione perché ci passiamo tutti siamo tutti esseri umani quindi non c'è odio sono cattivo perché per poter difendere la mia immagine di genitore a me stesso agli occhi degli altri allora no, lo facciamo, ci capita tutti la vera distensione, la vera differenza la fa il prendere tempo e spazio per portare questo alla luce per prenderne consapevolezza, per accettarlo perché è da lì che poi possiamo trovare una chiave diversa quindi certamente non c'è mai la volontà esplicita di mandare ai nostri bambini un messaggio stai sbagliando e sono io che ho ragione, devi fare come dico io e sono io che ne so più di te tu non sei niente o tu non sei capace sono magari meccanismi che si innescano sottofondo come il sottobosco che non si vede mai quindi mandando questo messaggio di sfiducia nei loro confronti il rischio è quello di privarli di un'opportunità di fare cosa, di responsabilizzarsi, di fare esperienza di mettersi in gioco e anche di costruire una fiducia basata sulla consapevolezza delle emozioni quindi di imparare a fidarsi delle sensazioni, a fidarsi delle emozioni a fidarsi di quello che senti e del giudizio che esprimi di fronte a una determinata situazione allora tu mi dirai, ecco io vabbè ok però i miei figli stanno sbagliando io lo so, io lo vedo, io sono più grande, io ho fatto questa esperienza a me è successa questa cosa, lo so che se rispondi in questo modo poi e allora ok se tratti in questo modo le persone poi è perché, non lo so, è un tratto egoista o poco rispettoso oppure io lo so che se non si fanno rispettare degli amici o non si mostrano più comprensivi, più flessibili è un errore, non saranno apprezzati, non saranno felici con le loro amicizie eccetera certo, ed è qui che mi riagganzo al discorso che abbiamo fatto quando parlavamo della leadership dell'essere genitore come guida perché la domanda vera è qual è l'obiettivo, qual è il vero obiettivo del nostro ruolo del tuo ruolo e di quello che stai cercando di ottenere, di risolvere e tendenzialmente penso che se sei qui ad ascoltare un obiettivo che possiamo tutti avere in comune è quello di voler insegnare ai nostri bambini degli strumenti perché poi possano navigare da soli nelle varie situazioni quindi strumenti come l'autostima, l'intelligenza emotiva, la flessibilità, la consapevolezza e così via non che i nostri bambini debbano sempre dipendere da noi per poter avere accesso a questi strumenti ma renderli poi autonomi di affrontare qualunque situazione ed è importante ricordare questo obiettivo perché altrimenti l'obiettivo rischia di passare in secondo piano per l'obiettivo di corto periodo dell'immediato che è no vabbè voglio io stare tranquillo quindi non voglio queste storie e b che il mio bambino o la mia bambina siano felici e questa felicità però porta con sé un rischio più di lungo periodo nel momento in cui non consentiamo ai bambini e ai ragazzi di fare esperienza anche di situazioni più spiacevoli anche di situazioni più difficili anche di emozioni spiacevoli e difficili come quella di rendersi conto di aver sbagliato rendersi conto di che quello che abbiamo fatto ha portato magari a un litigio una rottura dell'amicizia e quindi di vivere, di fare i conti con queste sensazioni di imparare a familiarizzarsi e quindi poi di poter riparare anche la relazione o no, di capire meglio tramite queste esperienze che cosa vogliono i nostri ragazzi e i nostri bambini e come fare a vivere delle relazioni autentiche con le persone che sono intorno a loro quindi l'obiettivo futuro richiede per forza di passare oggi davanti a qualche momento più difficile per poter capitalizzare su queste esperienze e situazioni e questo, ah ah, è di che ti voglio ma scherzi, è difficilissimo richiede anche a noi genitori di dare l'esempio a fare cosa non soltanto come noi possiamo navigare le nostre difficoltà con le nostre amicizie o le nostre relazioni e quindi di poter affermare in modo positivo i nostri bisogni, le nostre richieste eccetera non è tanto questo in questa sede oggi, in questo episodio di cui volevo parlare quanto di come noi genitori di come noi adulti riusciamo ad attraversare anche le emozioni difficili come per esempio la scomodità di osservare di vedere, di stare con i nostri figli in difficoltà perché qual è la fatica forse sotto sotto più grande in questi momenti quindi l'ostacolo che ti può impedire di passare da un obiettivo di lungo periodo che puoi aver richiarito qui o sul quale ti puoi interrogare a metto in pratica oggi delle azioni coerenti con questo obiettivo di lungo periodo eccola lì la fatica nell'affrontare queste queste situazioni emotive tue cioè il mio bambino la mia bambina il mio ragazzo la mia ragazza il mio bimbo la mia bimba li vedo in difficoltà per questa situazione perché magari l'altro compagno l'ha presa in giro l'ha presa in giro perché la sua migliore amica non vuole giocare con lei perché il fidanzatino l'ha tradito non lo so insomma qualunque sia la situazione specifica nel momento in cui vediamo i nostri figli star male per una situazione questo ovviamente comporta a noi genitori di fare da da appoggio da sostegno da supporto quindi di poter permettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di poter esprimere liberamente questa emozione sapendo che noi la accogliamo accogliere non vuol dire che dobbiamo compatirli che dobbiamo prendere noi carico di quell'emozione però vorrei semplicemente dire che i nostri bambini possano sfogarsi avendo noi al loro fianco senza giudizio ma solo come figura di ascolto inevitabilmente più sarà intensa l'emozione che i bambini e i ragazzi tirano fuori e più questo andrà magari a toccare delle corde nostre di situazioni nostre vissute in passato in cui ci siamo trovati ad affrontare un'emozione simile di quanto noi abbiamo avuto delle figure di ascolto di riferimento per imparare a familiarizzare con queste emozioni e a tirarle fuori ad ascoltarle a farcene guidare ed ecco perché come direi il lavoro lo strumento per poter poi mettere in pratica questo tipo di educazione e poter fare da guida con i nostri figli sta proprio nel rifamiliarizzare con il nostro vissuto emotivo e con i nostri bisogni e trovare riprendere come dire anche consapevolezza di quanto il nostro passato eventualmente influisce sul nostro presente e trovare dei nuovi automatismi trovare un modo per ricostruire tutto questo in maniera positiva oggi perché alla fine della fiera fare da guida i nostri figli implica sicuramente trasmettere fiducia nel fatto che sapranno cavarsela da soli ne abbiamo parlato già l'altra volta ma come si fa come si fa a trasmettere tutto questo in primis facendo da esempio non possiamo pretendere che i nostri figli imparino a accettare accogliere ascoltare a familiarizzare con le loro emozioni esprimerle in maniera rispettosa se noi per primi gli chiediamo di smetterla perché non ce la facciamo o cerchiamo di trovare noi la soluzione quindi dicendo no ma perché non hai fatto così dovresti fare cos'ha ma perché hai lasciato che la tua amica si dicesse così ma dovevi rispondere in questo modo non giocare più con lei oppure ed è difficile lo so benissimo perché succede anche a me nell'osservare i miei figli nelle loro dinamiche la tentazione di dare dei consigli anche quando sono richiesti del tipo secondo me sarebbe meglio se tu dicessi questo oppure secondo me sarebbe meglio se tu dicessi quest'altro dovresti provare ad andare a parlargli dovresti provare a bla 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 rischiano alla lunga di mandare appunto questo messaggio di non mi fido di quello che tu stai facendo penso che la modalità che ti suggerisco io sia migliore di quella che stai trovando tu da solo o da sola come si fa a invertire la rotta e a trasmettere invece questa fiducia e a dare anche ai nostri bambini ai nostri ragazzi l'opportunità di anche fare errori di anche fare sbagli per poter poi trarne trarne un insegnamento futuro ovviamente questa risposta cambierà in base all'età dei nostri bambini ma in generale il punto comune è quello di portare noi puntare l'attenzione su guidare o meglio guidare l'attenzione dei nostri bambini e poi dei nostri ragazzi su quello che gli serve per trarre gli insegnamenti dalla situazione quindi per esempio può essere puntare l'attenzione sulle emozioni e su come ti senti e familiarizzarci senza voler cambiare per forza l'emozione che vuol dire portare l'attenzione su come ti senti nel corpo può essere puntare l'attenzione sulla causa-effetto tra quello che hanno fatto i nostri bambini e su quello che hanno ottenuto magari nei confronti delle relazioni con le loro amicizie e su come si sentono quindi chiaramente con dei bambini piccolini sarà magari una descrizione di quello che di quello che vediamo e di quello che abbiamo osservato per far loro notare ok hai strappato di mano o hai preso in mano il giochino che prima era nella mano dell'altro bambino e adesso l'altro bambino sta piangendo e tu come ti senti tutto questo non lo so può essere guidare proprio la loro attenzione a osservare questi le conseguenze di quello che succede senza giudizio è puramente un'osservazione un guidare i nostri bambini nell'osservazione e man mano che i bambini crescono diventano più grandi è proprio guidarli con delle domande con delle riflessioni per capire come ti sei sentito quando è successa questa cosa come ti senti adesso cosa avresti voluto ottenere qual era cos'è che cercavi cos'è che vorresti secondo ti come si sente questo tuo amico questa tua amica come possiamo fare cos'è che cioè come possiamo fare come puoi fare magari la prossima volta come puoi fare per ripucire a te cosa fa stare bene quando ti trovi in una situazione simile eccetera 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 ma partendo da un'idea di partendo davvero da una fiducia nel fatto che i nostri bambini i nostri ragazzi sapranno loro trovare le risposte noi abbiamo solo bisogno di puntare la torcia nella direzione giusta e poi lasciare che siano loro a trovare la loro risposta ok ed è questa ed è questa la coltivare richiede è questo che richiede in noi coltivare in noi la fiducia nel fatto che con i tempi con i loro tempi i nostri ragazzi i nostri bambini arriveranno a trovare questa risposta che sarà la loro risposta e magari non è la stessa che avremmo trovato noi e accettare che va bene così perché la loro esperienza è loro e non è la nostra perché è importante trovare quindi degli strumenti per coltivare questa fiducia ed è ne parliamo spesso negli incontri con Tempo per crescere ed è anche il motivo per cui ci tengo a avere degli incontri di gruppo all'interno del percorso come parte integrante del percorso perché permette di poter tirare fuori anche queste fatiche questo vissuto e di coltivare questa fiducia nel confronto gli uni con gli altri rischiamo altrimenti il rischio quello che alla lunga i nostri bambini i nostri ragazzi perdono un po' fiducia nei nostri confronti e quindi questo ovviamente più crescono e più è un rischio perché perdiamo di vista quel contatto quella connessione che permette di avere questo ascolto di avere questa riflessione di fornire ai nostri ragazzi questa guida che diventa particolarmente importante poi quando saranno adolescenti e oltre ok ma una guida dove possono sentirsi loro sostenuti ok non in cui ci sostituiamo a loro nel trarre le conclusioni e quindi ovviamente nel momento in cui manca la fiducia che magari non ci dicano le cose che ci nascondano le cose apposta per timore di essere magari giudicati di sentirsi criticati in quello che fanno di sentirsi sminuiti in quello che fanno e all'allunga quindi anche la sfiducia in se stessi alla fine ed è questo un po' la bellezza e come dire il rischio che la fiducia in noi è direttamente proporzionale alla fiducia che riusciamo a dare ai nostri figli e la fiducia che riusciamo a dare ai nostri figli è direttamente proporzionale alla fiducia che poi loro si troveranno di bagaglio in se stessi quando saranno più grandi che non vuol dire naturalmente che non possiamo oggi ricostruire la nostra fiducia in noi indipendentemente da quello che è successo con i nostri genitori a suo tempo ma chiaramente diamo un bagaglio in più ai nostri bambini ai nostri ragazzi se riusciamo a guardarli con questi occhi di piena fiducia nei loro confronti e a dargli questo regalo per quando saranno più grandi fammi sapere cosa ne pensi e soprattutto se stai affrontando anche tu situazioni simili con i tuoi bimbi i tuoi bambini i tuoi ragazzi e ti do appuntamento alla prossima settimana per continuare la nostra avventura un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio